Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord, l'intervista di Umberto Bossi alla Repubblica danneggia la Lega e contribuisce a rendere più difficile la vittoria ai ballottaggi, lo ha affermato il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, commentando le affermazioni di Bossi questo pomeriggio a margine dell'Assemblea degli Industriali di Lecco. Non sono per nulla preoccupato, sono tranquillissimo, ha aggiunto Maroni. Lo stesso Maroni peraltro aveva detto di voler replicare con i fatti le affermazioni polemiche di Bossi, allora andiamo a vederli questi fatti nei primi 60 giorni di lavoro della giunta da lui guidata. Sono passati un paio di mesi da quando la giunta regionale Lombarda guidata da Roberto Maroni ha iniziato il suo lavoro e i risultati sono lì da vedere. A cominciare dall'approvazione del progetto che prevede di bloccare la nascita di nuovi centri commerciali in attesa di valutare le reali esigenze del territorio. Tra i fatti dei primi 60 giorni di Maroni si annovera il cosiddetto patto di stabilità territoriale grazie al quale vengono sbloccati circa 133 milioni di euro, di cui 100 per i comuni e 33 per le amministrazioni provinciali. In materia di cassa integrazione in deroga, la regione Lombardia, prima nel paese, è pronta ad anticipare fino a un massimo di 300 milioni di euro a fronte però della garanzia che il governo inserisca quelle risorse. Sarà messo a disposizione entro la fine dell'anno in corso una somma di un miliardo di euro, 60 milioni nei primi due mesi, per stimolare la nascita di nuove imprese e favorire l'internazionalizzazione. Quanto al problema abitativo, è in cantiere una norma che metterà a disposizione delle giovani coppie e degli anziani il patrimonio immobiliare sfitto o non venduto dalle imprese di costruzione. Via libera anche alla riforma del sistema ALER, cancellate 13 agenzie e 13 consigli di amministrazione. Nasce un nuovo organismo per un risparmio secco di quasi 4 milioni di euro. C'è chi parla di tagliare i soldi e chi lo fa davvero. In Lombardia si parte dal 10% delle spese delle segreterie di ogni assessore, dal 30% delle spese di rappresentanza e da un risparmio del Consiglio fino al 50%. C'è poi l'alto là ai rifiuti provenienti da fuori regione. In tema occupazionale, grazie alla mediazione dell'amministrazione regionale, è stato siglato l'accordo con l'ospedale San Raffaele, scongiurando il rischio di licenziamento per 250 persone. Infine, è stato stipulato un importante accordo con Fil Lombarda, che metterà a disposizione circa 500 milioni di euro per pagare i debiti accumulati dai comuni nei confronti delle aziende, che così potranno finalmente essere pagate.